Al posto del Campo Rampigna un parco archeologico. Lo scorso settembre la presentazione del progetto corredato di plastico per trasformare l'ex impianto sportivo appunto in un'area archeologica dove in futuro si potranno ammirare i ritrovamenti emersi durante gli scavi. Il progetto di fattibilità mette al centro il vecchio campo della Strapaisana, il circolo Canottieri, l'area lungo il rilevato ferroviario ad ovest, il sito occupato dall'acquistura ad est e la rotonda di piazza Martiri, Dalmati e Giuliani. Il prossimo passo di fatto decisivo la richiesta di finanziamenti al governo. Il sindaco di Pescara Carlo Masci e l'assessore alla cultura Maria Rita Paoni-Saccone. Sindaco il parco quello che sarà come riferimento direi culturale e identitario dell'intera popolazione e quindi della città di Pescara. Sì, il parco archeologico. Noi dal momento in cui ci siamo insediati abbiamo ragionato sul Rampigna come un giacimento preziosissimo per la nostra città, per la storia della nostra città. Andremo insieme alla dottoressa Mencarelli, alla soprintendente, al ministro per dire che questo progetto del parco archeologico di Pescara che arriva fino a prima di Cristo dovrà essere finanziato con i fondi del PNRR. L'importo è circa 13 milioni di euro, per il ministro non è un importo significativo. Penso che ci saranno tutte le condizioni. Oltretutto l'intervento è un intervento che si realizzerebbe fino al 2026, quindi vuol dire che rientriamo perfettamente nelle scadenze stabilite al PNRR. Un parco che può cambiare davvero il volto e l'attrattività della città di Pescara? Beh sì, così come è stato presentato il progetto dalla sovrintendenza è un progetto veramente molto importante e molto significativo. Questo parco potrebbe diventare un luogo d'incontro, un luogo d'incontro non solo culturale ma anche un luogo d'incontro dove poter passeggiare, passare del tempo e quindi è un progetto a livello socio-culturale molto significativo e molto importante per la città di Pescara. Lì c'era un campo sportivo, noi abbiamo fatto una scelta. Quel campo sportivo oggi non è importante tanto quanto la storia di Pescara e quindi recuperiamo la storia. Poi i fondi che avevamo per quel campo sportivo li abbiamo dirottati in altri campi, tant'è che stiamo riqualificando Zanni e il San Marco. L'ultimissima, perché su quell'area in realtà c'erano altri interessi, lei invece da primo cittadino si è speso tantissimo. Sì, perché il ruolo del primo cittadino è quello di credere nei progetti di sviluppo della città e soprattutto ci credono i pescaresi perché io l'ho sentito, questo afflato, i pescaresi che dicevano ritroviamo la nostra storia, le nostre radici, sono lì, scopriamole e portiamole alla luce.